Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In queste anticipazioni di Terra Amara, Zuleya, farà una terribile rivelazione, mentre Mugeigan rischierà la vita per colpa del suo ego. Siete pronti ad immergervi in queste meravigliose puntate di Terra Amara? Partiamo! Mugeigan, con passi furtivi, si intrufola nella sontuosa villa e si dirige silenziosamente verso la camera di Zuleya. Il calar della notte cela la sua presenza, ma quando Zuleya finalmente percepisce la sua entrata, un brivido di sorpresa e paura le corre lungo la schiena. Tenta di intimare Amugeigan, minacciando di denunciarla e farla finire dietro le sbarre se le farà del male. Ma Amugeigan, con occhi colmi di angoscia, riesce a tranquillizzarla. Svela la sua tormentata situazione riguardo al figlio, quel piccolo angelo di cui Ilmaz le ha impedito di vedere, nonostante le suppliche disperate. Inginocchiandosi di fronte a Zuleya, implora aiuto, mostrando di comprendere a fondo il dolore che entrambe provano. In seguito, Zuleya, forte e determinata, si reca da Fekeli e con fermezza comunica a Nazire che prenderà Kerem Ali con sé, per riportarlo indietro e permettere loro di stare insieme, lontano dalla minaccia di Ilmaz. Ma invece di condurre il bambino da Ilmaz, Zuleya lo consegna sorprendentemente a Amugeigan. La madre felice e commossa abbraccia il piccolo e ringrazia Zuleya, promettendo di custodire questo gesto gentile nel suo cuore per sempre. Al ritorno a casa, Ilmaz viene colto di sorpresa da Nazire, che gli riferisce che il bambino è scomparso e che Zuleya è la colpevole. Nel frattempo, mentre Zuleya offre conforto al figlio di Mugeigan, quest'ultima le chiede di rimanere ancora un po'. Zuleya, consapevole della necessità di agire con prudenza, le spiega che è fondamentale riportare il bambino a casa prima che qualcuno si insospettisca e le assicura che lo farà. Ma proprio quando sembra che Mugeigan stia consegnando il bambino, improvvisamente scappa via attraverso un fiume su una piccola imbarcazione con il bambino. Prima di continuare se ti va lascia un bel mi piace e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, grazie. Ripartiamo. Scivolando dall'imbarcazione, Mugeigan si trova in una lotta disperata contro le acque impetuose, il bambino piange angosciato e Zuleya, con un cuore impavido, si getta nell'acqua per salvare entrambi. Nel frattempo, un misterioso osservatore nascosto tra i rami di un albero assiste a tutta la scena drammatica. Quando raggiungono finalmente la riva, Mugeigan abbraccia il suo bambino, sciogliendosi in lacrime di emozione. L'uomo che ha assistito all'intero episodio corre da Demir e gli racconta con dovizia di particolari l'incredibile vicenda, dall'arrivo di Zuleya con il bambino fino al momento in cui ha salvato madre e figlio dalla furiosa corrente. Nel frattempo, Ilmaz si reca da Beis e la accusa di essere coinvolta nell'inganno di Mugeigan per portare via il bambino. Beis negavementemente, ma Ilmaz la avverte che, al ritorno di Mugeigan, prenderà provvedimenti contro di lei. Zuleya accompagna Mugeigan a casa e la rimprovera, facendole notare il pericolo che ha corso sia per se stessa che per il bambino. In quel momento, Ilmaz fa il suo ingresso e, vedendo entrambe completamente fradice, chiede spiegazioni. Zuleya racconta con determinazione tutta la storia, e Mugeigan conferma che è stata Zuleya a salvarle la vita, insieme al suo prezioso figlio. Ilmaz, consumato dalla rabbia, affronta Mugeigan e le chiede se si rende conto che il loro bambino avrebbe potuto morire. Estrae una pistola e la minaccia, mentre Zuleya cerca di intervenire. Mugeigan, ora disperata, lo supplica di ucciderla perché non può vivere senza il loro bambino. Nel frattempo, Demir arriva sulla scena e ascolta la conversazione infuocata da dietro la porta d'ingresso parzialmente aperta. Zuleya abbraccia Mugeigan e dice a Ilmaz che se la ucciderà, non la vedrà mai più. Poi spiega che Mugeigan è una vittima del loro amore. Ilmaz ricorda le sue azioni passate, ma Zuleya sostiene che lo ha sposato per amore e non l'avrebbe fatto se avesse saputo della loro relazione, quindi deve perdonarla. Avverte severamente Mugeigan di non farle più del male. Infine, ribadisce a Ilmaz che se farà del male a Mugeigan, non la vedrà più e se ne va. Uscendo dalla casa, incontra Demir sulla soglia. Quando Zuleya torna a casa, trova Sevda che parla con Semin. Notando che è bagnata, le chiedono cosa sia successo, e Zuleya racconta l'intera vicenda. Nel frattempo, Ilmaz è ancora a casa di Mugeigan, stringendo il bambino. Comunica senza pietà a Mugeigan che lei non è come Zuleya e che non gli restituirà mai il loro bambino se lo porterà via. Mugeigan prega di restituirglielo, ma Ilmaz la ignora e se ne va. Poco dopo, vede Mugeigan inginocchiata attraverso lo specchietto retrovisore e decide di tornare indietro. Mugeigan salta subito in macchina e se ne va con il loro bambino. Demir è con Zuleya e la loda per la sua generosità verso Mugeigan, dicendo che non sarebbe stato altrettanto magnanimo con un suo nemico. Quando Zuleya chiede come abbia scoperto cosa è successo, Demir ammette di essere stato informato da Iri e spiega che la sta tenendo d'occhio. Zuleya lo rimprovera per aver infranto la sua promessa di non farlo di nuovo, ma Demir le dice che è preoccupato per la sua sicurezza, specialmente dopo quanto è accaduto a sua madre. Zuleya lo accusa di trattarla come sua proprietà. Demir confessa che il suo più grande dolore è ancora amarla e non riuscire a dimenticarla. Zuleya gli dice che sta soffocando sotto il peso del suo amore. Quando Ilmaz e Mugeigan ritornano a casa, Ilmaz affida il bambino a Nazire e le comunica che da quel momento il bambino rimarrà nella sua stanza. Inoltre, arriva Fekeli e Ilmaz le racconta l'accaduto con Mugeigan. In seguito, Nazire si scusa con Ilmaz per aver dato il bambino a Zuleya. Ma lui le risponde che non è arrabbiato e che Zuleya ha dimostrato la sua bontà, mentre Mugeigan ha messo in pericolo il bambino. Fekeli rivolge a Mugeigan la domanda se si rende conto che avrebbe potuto perdere il bambino se Zuleya non l'avesse salvato dal fiume. Poi le consiglia di superare l'odio per Zuleya e di controllare la sua rabbia per ritornare a essere la persona che era prima. Nel frattempo, Sermin si è precipitata al circolo e sta raccontando a tutte le sue amiche ciò che è accaduto tra Mugeigan e Zuleya, sottolineando il gesto generoso di Zuleya e suscitando l'ammirazione di tutte. Nel frattempo, Fikret affitta un ufficio da Asan e gli raccomanda di mantenere il segreto. Rimasto solo, esamina documenti che indicano che Ilmaz ha venduto tutte le sue proprietà a Anca, e commenta l'interessante situazione. Le anticipazioni terminano qua. Se il video è stato di tuo gradimento, lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale. Grazie di cuore se lo farai. Ciao! Grazie!